bentornato signor alessandro come al solito è un piacere averla qui non si preoccupi non ho molto da fare come vede c'è poca gente anche stasera ma mi dica piuttosto signor alessandro cosa prende da bere sir signor alessandro ormai è più di un mese che va avanti questo teatrino lo sa qui siamo sempre a sua disposizione ma signor alessandro è inutile che mi chiede drink pregiati lei come al solito ha rifornito il bar di pessimo alcol per risparmiare comunque si dà il caso che ho nascosto una mezza bottiglia di whisky solo per lei sa signor alessandro è il numero dei decreti che ci frega il numero dei decreti oh no signor alessandro cosa fa offre la casa signor alessandro non è un problema che la riguarda signore alla salute ordini superiori sir signora